E buongiorno, buonasera, buona Pasqua, quasi, un saluto personale a Laura Gioia da parte della Gioia Fantozzi, da parte della Pina e della Bambina, perché è un re, è inguartabile, va beh, arrivederla, no, non dalla mano, come umano lei Laura, un saluto anche con la mia voce, Victor Quadrelli, ciao Laura. Ciao Victor, tanti auguri di buon compleanno e un abbraccio forte da Andrea Runcato e da Loris Batacchi, ciao Victor. Gioite tutti, Victor è nato e tanti auguri al consigliere delegato. Victor, tanti auguri, buon compleanno, ma soprattutto ti auguro tanta salute, tanta felicità, tanto successo naturalmente e tanto tempo per coltivare questa tua grande passione che è l'imitazione e che arrivi a più persone possibile il tuo talento, davvero, con tutto il cuore. Ti abbraccio, ma allora non dà la mano, vabbè, ciao. Non sono bravo quanto te, ma proprio zero. Ti abbraccio.